Dopo il successo nazionale ed internazionale degli europei di Grosseto, l'atletica paralimpica torna a far parte di sé. A 10 giorni dalla chiusura della rassegna continentale, saranno 125 gli atleti in rappresentanza di 26 società che si troveranno a Rieti nel fine settimana del 2 e 3 luglio per puntare ai titoli assoluti delle varie specialità di corsa, salti e lanci. Sarà nuovamente il camposcuola Raul Guidobaldi ad ospitare l'evento che è stato già teatro dei societari di due anni fa. I campionati, organizzati dalla FISPAS in collaborazione con la società locale atletica studentesca Rieti e Andrea Milardi, sono stati inseriti nel calendario della federazione per seguire di una settimana gli assoluti fidali in programma lo scorso weekend.